Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e buona estate. Un videocorso infatti estivo, come potete vedere anche dalle decorazioni presenti qui accanto al mio faccione, per un'attività tanto semplice quanto carinissima da proporre a settembre ai nostri alunni, ma sulla quale divertirci perché no anche proprio in estate. Parlo della creazione per uso didattico di un fumetto, una cosiddetta comic strip, realizzata con la formidabile web app Canva. Canva è ora una delle web apps del momento, c'è da dire però lo ricordo, trovate un bel videocorso tematico qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, a Canva dedicato, ed è come vi dicevo un'app che non nasce ora, per cui sono molto lieto anch'io che sia stata scoperta ed incentivata, ma baddiamo bene, era nella nostra disponibilità veramente da tanto tempo. Tant'è che ora se notate siamo sul sito canva.com barra degli indirizzi, sito di riferimento, io clicco su accedi e per accedere a Canva utilizzo un mio vecchissimo account, proprio perché ho utilizzato Canva dalla prima ora per creare presentazioni, flashcards, schede. Veramente non c'è limite alla fantasia, lo possono utilizzare anche i nostri alunni di minore età, e vi consiglio, come ho già detto anche nel precedente videocorso, di registrarci ed accedere poi con account magari Google Workspace dell'istituto. Bene, se voglio creare un fumetto internamente a Canva, cosa posso fare? Beh, io vi consiglio di utilizzare la barra di ricerca in alto e digitare per esempio proprio fumetto. Laddove abbiate Canva magari in lingua inglese, consiglio di effettuare la ricerca con le parole chiave Comic Strip. Allora, fumetto, vedete che restituisce come suggerimento striscia di fumetti. Quindi, clic, ed ecco dunque che abbiamo ristretto il campo a quei modelli che davvero ci servono. Ecco una precisazione, Canva ha moltissimi modelli free. Ci sono poi dei modelli etichettati come a pagamento con la E di euro, che attenzione, sono a pagamento nella misura in cui all'interno hanno degli elementi a pagamento. Ma, se vado a rimuovere quelli, non andando a ledere così le condizioni d'uso di Canva, io posso poi utilizzare gratuitamente quel modello lì. Attenzione! Io prendo per nostra praticità ora uno dei modelli con scritto gratis, ma sappiamo che può non essere appunto l'unico. Guardate quante belle strisce di fumetti ci sono qui. E allora proviamo un pochettino a scegliere per esempio questo modello gratis, un click. Che cosa accade? Allora, al centro dell'area di lavoro avremo quello che è sostanzialmente la nostra base per la striscia fumetto. Attenzione! I fumetti in Canva funzionano così. Noi abbiamo una pagina base, di solito a pagina 2 o pagina 3, abbiamo un set di personaggi che possiamo con copia ed incolla andare ad utilizzare anche nelle altre pagine del nostro fumetto. Vi faccio un esempio. Se qui ho pagina 1 e pagina 1 mi piace e mi soddisfa, per generare una pagina ancora successiva, io non faccio altro che stare su pagina 1. A destra, dove ho il pulsante con i due quadratini e il più duplica pagina, vado ad effettuare un click. Ho preparato dunque, come vedete, la sequenza, no? Quella che sarà la mia striscia di fumetti, mantenendo come ultima pagina quella con il set dei personaggi. Io vi ho detto che si muovono con un copia e incolla, ma potremmo anche trascinarli. Quindi, attenzione, quando il fumetto poi è pronto, in realtà andiamo a fare click sul bidone sopra quella pagina, per noi era pagina 3 contenente le illustrazioni, altrimenti rischiamo di portarcela dietro. Se questo è un fumetto ipotetico, che io vado a battezzare come benvenuta estate, guardate, io faccio un click sulla casella di testo, ricordo che Canva è facilissimo poiché solo quando clicco su un elemento, si attiva la barra degli strumenti di quell'elemento. Dunque vedo solo gli strumenti che mi servono. Quando mi servono? Inutile dirvi che ho visto dei miei alunni della secondaria di primo grado utilizzare Canva per creare accattivanti, elaborati, proprio poi presentati in sede di colloquio. Benissimo per la scuola primaria, addirittura Canva opportunamente graduato è ottimale per la scuola dell'infanzia. Senza contare poi gli ordini quali la secondaria di secondo grado e non solo. Allora, con un click io ho illuminato, selezionato la mia casella di testo, ma di click ne occorre almeno un altro per avere la casella di testo in evidenza con la selezione. Tant'è che ora con un colpo sul tasto Backspace, quello sopra la gomma, rimuovo il testo di esempio e digito Buone vacanze! Punto esclamativo. Dopodiché il colore verdino così non è propriamente estivo. Bene, allora un click sullo sfondo, vediamo che in alto abbiamo il quadratino di colore verde, vediamo un po' dalla tavolozza, andiamo a scegliere un colore che sia un pochino più estivo, per esempio un bel giallo. Poi un click a vuoto ci consente di uscire dalle opzioni per tornare sulla nostra area di lavoro. Allora, un click anche sul personaggio, come vedete cliccando il personaggio, in alto a sinistra abbiamo i colori che fanno parte del personaggio. Un esempio, se io clicco sul colore verde e poi vado a scegliere per esempio il rosso, ecco che ho cambiato la maglietta della mia, in questo caso, fanciullina, del mio personaggio femminile. Oppure ancora con un click, magicamente faccio diventare la maglia di colore azzurro. Nel frattempo mi viene una sete a vedere quella noce di cocco qui sotto la mia faccia. Vabbè, ma ogni mago non svela tutti i suoi segreti. Allora, andiamo anche a personalizzare il testo che c'è sopra la nostra fanciulla. Vedete, con pazienza questa operazione si può svolgere anche da tablet accedendo a Canva mediante la sua app ufficiale o mediante il browser Chrome. Se io faccio un click, ho la mia scritta che in questo caso appare anche così a semicerchio. Con un doppio click, la scritta si seleziona, mi è possibile, sempre con il tasto backspace, la gomma sopra all'invio, cancellarla per inserire un mio testo personalizzato. Ad esempio, buone vacanze, la scuola è finita. Punto esclamativo. Andiamo a fare un click a vuoto, cioè al di fuori, e il testo si dispone. Poi, secondo cerchio. Guardate come può essere semplice, ad esempio, per poi pubblicare su Classroom, generare una striscia semplice per salutare i nostri allievi e dare loro un messaggio positivo in relazione all'estate. C'è l'alunno qui con un libro, per cui la scuola è finita. Clicca ancora. Ancora un click per avere il testo selezionato. Lo vado a cancellare con la mia gomma e qua scrivo la scuola è finita. Rilassatevi con un buon libro. Punto esclamativo. Io posso sempre selezionare il mio testo, qui siamo pienamente nella videoscrittura, e ad esempio cliccare sul pulsante A andando a scegliere un colore che non sia il nero per mettere in risalto il nostro testo. Un click a vuoto e ancora a vuoto, come vedete, ci permetterà di avere il nostro testo disposto così come la forma prevede e poi ancora abbiamo la possibilità di andare avanti. Vi ho parlato prima del set, come vedete qui abbiamo pagina 1, pagina 2 con i personaggi preconfezionati. Se avessi ancora il mio set delle illustrazioni, che peraltro ho sempre richiamabile con un click a sinistra, avete visto che l'ho cliccato ed ho qui i miei personaggi. Ora, prima vi ho parlato di trascinamento, per intenderci, se io prendo un elemento tasto a sinistro premuto del mouse e lo porto nella mia area di lavoro, vedete che con l'illustration set io ho la possibilità di gestire al meglio i miei elementi. Inutile dirvi che questa attività è carinissima anche da fare all'interno di un qualsiasi modulo PON e vi dico di più che un'attività di questo tipo è ottima per lo storytelling, la vedo ottima per le STEM, magari proprio per rendere quell'anima, così, quella componente umanistica che pure le discipline STEM o STEAM hanno. Inoltre, vi aggiungo che con un click sulla nuvoletta caricamenti, noi possiamo anche caricare in qualsiasi momento elementi personali presenti sul nostro computer, caricati nella libreria di Canva. Vi invito a guardare il mio videocorso sul sito Crea il mio avatar, cercate Cartotto Avatar come parole chiave su YouTube e vedrete che gli alunni possono, ma anche noi possiamo, creare un avatar, dunque una immagine, inserirla qui nella libreria di Canva e utilizzare l'immagine come personaggio da far parlare ed abbiamo un fumetto a nostra immagine e somiglianza. Bellissimo! A questo punto, quando abbiamo terminato, allora intanto ricordiamoci, eliminiamo le pagine non strettamente necessarie, dunque un click sul pidone nel mio illustration set. Se ritengo di avere finito, primo consiglio, andiamo in alto a fare un click e a scegliere un nome per questa nostra pubblicazione che non sia il nome del modello scelto da Canva. Nel mio caso scrivo fumetto, digitiamolo bene, fumetto estate 2021, un click a vuoto a mo' di conferma. Quando abbiamo terminato, clicchiamo sulla freccia rivolta verso il basso scarica e scegliamo se per la stampa il formato pdf in alta risoluzione, stampa pdf, documento su più pagine in alta qualità, ma anche se la pagina è una, c'è l'alta qualità. PDF standard, un formato più idoneo magari per una pubblicazione perché no su Classroom, per una diffusione via email del fumetto ed altro. Oppure ancora, badate bene, se dobbiamo esportare in un formato immagine di qualità il nostro fumetto, non scegliamo il formato JPEG, ma scegliamo sempre con Canva il formato PNG perché è il formato in grado di garantirci la maggiore qualità ed è quello che sto facendo. Come potete osservare, non mi viene rivolta alcuna segnalazione circa la presenza magari di elementi a pagamento di Canva che mi sono dimenticato di togliere o che mi sono dimenticato di acquistare se magari mi occorrono. Abbiamo dunque il tasto scarica pronto davanti a noi con un click su scarica. Non dovremo fare altro che attendere perché ci verrà mediante finestra come vedete proposta una cartella vado ora a fare click su salva dove poter scaricare il nostro fumetto nel mio caso era la cartellina download e lì troverò in formato immagine png la striscia a fumetti realizzata con Canva. Vado a chiudere con X e ricordo anche che cliccando sulla T di testo possiamo naturalmente aggiungere guardate che bello l'effetto neon caselle di testo o semplici tre blocchi standard vedete intestazione a modo titolo sottotitolo paragrafo quindi corpo del testo oppure ancora sotto un carattere effetto neon o dei blocchi come quelli che vedete ne clicco uno ad esempio sul dimmi di sì ecco dei blocchi di testo che sono pronti per essere modificati naturalmente qui abbiamo un unico blocco ma questi testi io li seleziono separatamente per cui vedete ora ho digitato Canva se io digito in questo caso sulla prima casella di testo personalizzo quel blocco lì poi dovrei selezionare ancora sotto l'altro testo e modificarlo ancora sotto l'altro testo e modificarlo e così via dunque un utilizzo carinissimo di Canva formidabile applicazione web per la grafica editoriale scolastica di qualsiasi tipo una idea carina da provare perché no nel periodo estivo è sicuramente da portare in classe da settembre mettiamo anche Canva nella cassetta digitale degli attrezzi del docente io vi ringrazio sempre per l'affetto e la stima con cui mi seguite e vi do sindora appuntamento al prossimo videocorso ancora un caro saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto ciao ciao